Ci sono 10.3. Lavoreremo a seggi chiusi, perché ci sono ancora alcune decine di collegi che incredibilmente a mezzogiorno del giorno dopo non sono ancora chiusi, a seggi chiusi lavoreremo perché la squadra che è più vicina ad essere maggioranza arrivi ad essere maggioranza con coloro che eventualmente non fanno parte di questa squadra ma ne condivideranno il programma. Non fatemi fare nomi e cognomi perché prima voglio capire chi sono gli eletti, chi non sono gli eletti, ci sono alcuni collegi dove vinci o perdi per 50 voti e quindi vogliamo avere il quadro chiaro. Pagnaro della Sette? Ci sono dei voti in comune con il 25 Stelle? Il 25 Stelle ha cambiato idea troppe volte su troppi tempi. Penso al tema immigrazione, penso al tema rapporto con l'Euro, con l'Europa, sembra che Di Maio abbia più a cuore avere buoni rapporti con le burocratie e i potentati europei. Però, ripeto, gli italiani hanno votato, il primo partito è il 5 Stelle, quindi questo va evidentemente sottolineato. Noi abbiamo chiesto la fiducia degli italiani per cambiare il paese con un programma che è quello del centro-destra e con questo programma vogliamo governare. Villuzzi dell'Aria Fettina. Segretario, buongiorno. Buongiorno. Senta, si aspetta adesso di guidare la delegazione del centro-destra Mattarella, quindi si aspetta un incarico e, ripeto, nel caso ci potrebbe essere anche un'apertura di dialogo con i 5 Stelle, se i numeri non fossero sufficienti a essere appunto autosufficienti? No, cioè, non stava N, O, no, tre trattini sotto, sceglierà il Presidente della Repubblica qual è il Presidente del Consiglio con i numeri più vicini alla realtà, quindi non ho mandato liste di ministri via mail e non do suggerimenti. E quindi attendiamo forti, ripeto, di un risultato che sfido chiunque, ecco, c'è questo esercizio verità, qualcuno qua dentro avrebbe pronosticato la Lega al 18%? Grazie. Ma giorni di regno. Per chi ci guarda da casa non si è alzata macchina a mano, giustamente. Volevo chiedere se è un pochino dell'uso proprio dell'ottica della coalizione nel risultato di Quarto Italia e di Fratelli Italia. No, ognuno ha fatto il suo. Sono strafelice per il risultato della Lega, però siamo una squadra e con gli amici che fanno parte di questa squadra cominciamo un percorso. Federica Valenti, sì. Io le chiedevo se qui ci dà chi venga la Premiership e se ha sentito Berlusconi all'interno della coalizione, come era da parte, e se ha sentito Berlusconi e la Meloni. Mi sentirò nelle prossime ore, prima ho passato la notte, ho dormito due ore come molti di voi immagino, anzi mentane neanche quelle, però sono stato attaccato al computer, ai territori, dal Lazio al Trentino fino a stamattina alle 6, ho dormito due ore, poi siamo qua. Ora sentirò sicuramente tutti gli amici che fanno parte della squadra nei prossimi minuti.